... Signore Ornò, non avreste per caso un mezzo limone da prestarmi? Mezzo limone? Se è possibile. Posso darvene uno intero? Oh, grazie. Sapete, è per non vestirmi. Lo vedo. Ma non prendete freddo? Ti sono abituata. E l'aria, dicono i dottori. Sì, certo. Però non siete sola qui. Oh, lo dite per vostro figlio. State tranquilla. Quando lo incontro abbassa gli occhi e si la svinia di corsa. È timido. È ben educato. E volevo appunto chiedervi, signorina, di... Oh, sarò felice di accontentarvi, ma chiamatevi Josette come tutti quanti. Signorina Josette, quando vi sfogliate in camera la sera, vi dispiacerebbe tirare prima le tende? Sì, lo so, me ne dimentico. Però se non ci volete credere, preferisco rendervi il limone. No, tenete il limone e tirate le tende. Scusate, mi hanno suonato. Grazie molte, signor Arnò.